Signori, inizia il cammino dal Grappa, località Colberetta, direzione Romano del Giardino, un appezzamento di terra, pascolo di casa. Ormai siamo volti al termine di questa stagione Monti Cattoria 2022. Tempo di transumanza anche sul massiccio del Grappa, da dove uomini e animali partono in questi giorni di ottobre avanzato per tornare a casa. Il nostro amico Egidio Bergamo ci racconta con le immagini la discesa verso Romano Dezzelino, dove la mandria e la famiglia riposeranno fino al ritorno della bella stagione. L'autunno e l'inverno serviranno anche per fare i conti, per ripensare a un'estate eccezionalmente siccitosa e alle difficoltà che stanno colpendo il mondo dell'allevamento e della filiera, la tiro casearia. Per adesso però c'è solo da far festa per il rientro dall'alpeggio. Eccoci qui, alle spalle del cimitero di San Giacomo, alle mie spalle la mandria, noi i pastori, il greggio, l'AGB, gli ultimi 400 metri ce li abbiamo fatta.